Mi state chiedendo come osservare la cometa C2022E3ZTF o come la chiamano la cometa dei Neandertal, perché passa una volta ogni 50.000 anni e quindi allo scorso passaggio c'erano loro. Posto che all'epoca c'era anche già da tempo Homo Sapiens, c'erano pure questi buffi rinoceronti, quindi perché non chiamarla la cometa degli Elasmo Terini? Ad ogni modo l'oggetto il 12 gennaio è stato alla minima distanza dal Sole e ora sta per rinfilarsi nelle profondità del cosmo, ma prima deve passare vicino alla Terra, diventando più facilmente osservabile. Da qualche giorno è circumpolare, cioè visibile tutta la notte a settentrione senza tramontare. Il picco di luminosità si avrà nella notte fra l'1 e il 2 febbraio, quando sarà alla minima distanza da noi e si potrà individuare fra il piccolo e il grande carro e la costellazione della giraffa. Bisogna allontanarsi il più possibile dalla città e usare almeno un binocolo, perché comunque non è che è la luce di Galadriel. Se possibile, alzatevi presto e osservate la prima dell'alba del 2 febbraio, quando la luna, che è crescente e rompe le scatole, sarà ormai tramontata. So che è uno sbattimento, ma oh, vorrete mica attendere altri 50.000 anni quando la chiameranno la cometa della trap?